ciao ragazzi allora oggi due novità per me partiamo dalla seconda che praticamente finalmente sono riuscito a trovare un nuovo mascara per me molto molto bello che è quello della essence ve ne parlerò nei prossimi video perché merita davvero tantissimo ce l'ho addosso non so se si riesce a vedere bene con questa luce con questi occhiali però merita davvero un bel video dedicato e perché insomma non ok mi trovo bene con quello della chico per carità però devo trovare anche altre soluzioni no quindi siccome io sono sempre curiosa continuato a cercare e ho trovato questo della essence che è stupendo di poco stupendo e essence sempre quella che vendo io e non quella dei negozi ok e poi c'è una novità perché sono stata contattata da un'azienda che si occupa di aloe vera e mi ha chiesto una collaborazione quindi adesso ancora tutto nuovo per me però da quel poco che sono riuscita a vedere questa mattina devo dire che è un prodotto molto interessante quindi sono molto curiosa non vedo l'ora di iniziare la mia formazione con questa azienda per poi potermene parlare niente ragazzi io nel frattempo vi saluto e ci vediamo nei prossimi video